ABC come arte, bellezza e cultura. Una iniziativa della Regione Lazio che coinvolge la capitale, cimita di Bagnoregio, Rieti, Formi e Cassino. E proprio nella città a Martire in mattinata è stato presentato nello specifico ogni aspetto del progetto, che ha un obiettivo ben preciso, creare degli spazi fisici in grado di incentivare la crescita di attività imprenditoriali ed artigianali legate alla cultura. E Cassino, di storia e cultura, ne ha da vendere un'opportunità dedicata a chi vuole fare impresa sfruttando la scia della storia. Ci aspettiamo molte proposte da parte delle imprese, proposte soprattutto innovative per la valorizzazione dei beni culturali, per sviluppare il turismo della memoria in questo territorio. Come progetto ABC in questi anni con la presidenza Zingaretti abbiamo promosso tantissime attività a Cassino e oggi abbiamo questa occasione importante che le piccole e medie imprese non possono perdere. A Cassino la sede operativa sarà all'interno dell'istoriale. I progetti si potranno presentare dal 22 maggio al 21 giugno. Ogni micro, piccolo o media impresa ha a disposizione fino a 200 mila euro. Una grande opportunità anche per tutta la città. È una grande opportunità per il Comune di Cassino partecipare a questo bando, appunto, in cui si parla di 6 milioni di euro, di cui un milione e due è destinata solo al territorio di Cassino. Quindi, ovvio che è una grande opportunità. Spero che le piccole e medie imprese del territorio riescano a realizzare i progetti validi per valorizzare il nostro territorio. L'ambizione è quella di portare le città, quindi anche Cassino, al di fuori dei confini nazionali, attraverso l'arte, in ogni sua forma, dalla scrittura al fumetto, passando per artigianato e digitale. Un lavoro sulla memoria che preveda anche la collaborazione con archivi internazionali della storia e della memoria per quanto è ricca questa città rispetto alla storia, alla resistenza e a tutto quello che ha prodotto in questi ultimi anni.